Ciao da Apsim! Polemiche per le dichiarazioni di Marcello Nicchi, presidente AIA, quindi presidente degli arbitri italiani, che all'ADS ha detto, ha tonato, anzi diciamo provando a focalizzare l'attenzione su un argomento fin qui marginale, che gli arbitri sono in difficoltà per l'eventuale ripresa del calcio e sono trascurati in questo momento perché nessuno si fa carico della loro situazione e in particolare della situazione VAR. La Serie A potrebbe riprendere senza VAR. Questo è lo slogan, questo è il messaggio chiaro che è stato lanciato da Nicchi e che, ripeto, ha fatto discutere e sta facendo tanto discutere. Perché potrebbe partire senza VAR? Perché non tanto gli arbitri in campo che al pari dei calciatori potrebbero tranquillamente offrire le loro prestazioni, ma gli arbitri in sala VAR potrebbero trovarsi invece in situazioni complicate, visto che le sale VAR tra i vari stadi d'Italia sono talvolta delle stanze molto piccole, anguste, addirittura dei camion, dei furgoni, quindi degli spazi sicuramente ristretti. E con le precauzioni che dovremo assumere quando torneremo alla normalità potrebbe essere impraticabile per gli arbitri svolgere il loro ruolo in sala VAR. Questo, diciamo, è il messaggio che vuole essere fatto passare, che viene fatto passare da Nicchi, appunto. Comprensibile? Condivisibile? Veritiero? Onestamente, secondo me, no. Infatti, le polemiche e la contrarietà che ha generato Nicchi con queste affermazioni io le trovo condivisibili d'altra parte. Perché entriamo un po' nell'ordine di idee, entriamo un po' nello specifico. Perché gli arbitri dovrebbero sospendere un'attività che è loro obbligo, cioè il VAR deve esserci perché da regolamento deve esserci? E mi pare, tra l'altro, che una cosa del genere possa essere anche in contrasto con FIFA e UEFA, quindi potrebbe causare all'Italia, al calcio italiano, anche delle meritate ripercussioni a livello di sanzioni. Dico perché gli arbitri dovrebbero sospendere questa loro attività quando lavoratori di ogni settore in tutta Italia, quando torneremo alla normalità, torneranno alla normalità a lavorare in situazioni ben peggiori, molto più degradate. E quindi loro cosa fanno? A chi possono appellarsi? Davanti a quali microfoni vanno a fare dichiarazioni? Pensiamo agli uffici, ma pensiamo ai negozi, che non hanno sempre delle ampie metrature, non sono tutti grandi centri commerciali, grandi magazzini. O grandi supermercati. Le distanze non sempre potranno essere mantenute, non solo, ma almeno gli arbitri si conoscono tra di loro e sono in uno spazio ristretto per qualche ora in poche persone. Pensate ai cassieri dei supermercati, che magari hanno anche degli ampi spazi, ma quante persone devono incontrare e venirci a contatto quotidianamente anche in questi giorni, anche in queste settimane? E loro cosa dovrebbero fare? Se sospendono le loro prestazioni si ferma il paese. Invece se gli arbitri si fermano, non si ferma il paese, certamente, e proprio per questo il loro, tra virgolette, sacrificio dovrebbe essere ammissibile, dovrebbe essere, diciamo, scontato quasi. Ma sacrificio non è. Perché senz'altro gli arbitri verrebbero messi nelle migliori condizioni di fare il loro lavoro. Mascherine, gel igienizzanti, igienizzazione e sanificazione degli ambienti. Cioè, perché mettere in dubbio che verranno prese queste misure? Perché dare per scontato che gli ambienti, poiché angusti, saranno anche contaminati e metteranno appunto a rischio la salute degli arbitri? Io non capisco. Mi sembra che si stia esagerando con un giudizio eccessivo, tra l'altro troppo anticipato rispetto ad una situazione che non sappiamo neanche quando si verificherà, cioè quando si ricomincerà a giocare. Quindi io non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Nicchi e lo trovo anche una dichiarazione scomoda, la trovo anche una dichiarazione fuori ruogo, insensata in questo momento. Cioè, si poteva veramente mettere la questione sotto altro aspetto. Dire magari, state pensando alla ripresa agonistica dei calciatori, fate bene, ma non dimenticate gli arbitri che sono fondamentali, naturalmente, per il calcio, var o non var. Loro si stanno pure allenando individualmente a casa, sono in contatto in conference call per le riunioni tecniche e poi quando ci sarà la ripresa saranno a disposizione, ma tenete conto che pure loro devono essere tutelati. Stop! Poi, andare a dire, gli arbitri viaggiano da soli, frequentano stazioni, aeroporti e treni. Sì, d'accordo, succede a tanti, cioè, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fermare tutto il paese? Già è stato fatto, ma quando ci sarà la ripresa che facciamo? Non riprendiamo perché la gente deve circolare nelle stazioni? Non ho capito. Gli arbitri, come tutti gli altri, vanno nelle stazioni. Si utilizzeranno le precauzioni che saranno necessarie. Non capisco perché sospendere, ripeto, o minacciare di sospendere e di non partecipare. Cioè, guardate che queste dichiarazioni, al di là del peso che possono avere specifico nel mondo del calcio, come peso politico anche, cioè dichiarazioni del presidente degli arbitri, magari contro la federazione, per fare un'ipotesi, hanno anche un peso, secondo me, sociale e culturale, non da poco, che mettono in cattiva luce il presidente degli arbitri, con tutta l'associazione e probabilmente con gli arbitri stessi. Io credo che molti arbitri non siano d'accordo con Nicky, ipotizzo che non siano d'accordo con Nicky, e siano anche contrariati per la figura che a questo punto gli ha fatto fare, ha fatto fare loro, per come la vedo io almeno. Fatemi sapere nei commenti come la pensate su questa questione e vi ringrazio in ogni caso per la vostra attenzione. Fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto mettendo like nel caso, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video che usciranno da guardare rigorosamente da casa vostra. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!